La pace dei santi sia con voi. Il 26 febbraio la Chiesa celebra la memoria di Santa Paola, di San Giuseppe di Calasanzio, fondatrice delle figlie di Maria. Il nome da religiosa di questa santa spagnola fu Paola di San Giuseppe di Calasanzio. L'incontro con il carisma degli scolopi nel 1837 diede infatti una svolta alla sua attività di educatrice, che già aveva fondato due scuole, a Gerona e a Barcellona, dove era nata nel 1799. A Barcellona questi istituti confluirono nelle scuole pie. Nel 1847 fece la professione religiosa come figlia di Maria Scolopia, insieme a tre compagni. Con la nuova congregazione fondò molte opere, l'ultima ad Olesa di Montserrat, dove morì nel 1889. Buono nomastico a tutti coloro che portano il nome di Santa Paola ed auguri a quanti il 26 febbraio festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.